Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Teresa Langella Verissimo ha raccontato un passato molto doloroso. Per un intervento al seno, oltretutto sbagliato, la Langella dovette subire molestie e violenze dal chirurgo che, oltretutto, doveva rioperarla per sistemare il seno deforme. Ecco cosa ha detto l'ex tronista di Uomini e Donne nonché ex tentatrice di Temptation Island che si è legata sentimentalmente ad Andrea Dal Corso. Aria di matrimonio fra i due. Il Veneto non ha voluto lasciare intendere nulla di che. I fiori d'arancio potrebbero esserci nel futuro della coppia. Ma la proposta arriverà solo quando Teresa non se lo aspetterà. Ora tutti glene parlano e sarebbe troppo scontato e poco sorprendente.